Ciao a tutte e a tutti, io sono Giovanni Arezzo, sono l'autore e il regista di Quando venne buio, racconto dalle Termopili. Quando venne buio ripercorre, tra storia e mito, la battaglia delle Termopili, datata 480 a.C., che vide l'esercito persiano dell'invincibile Cerse attaccare e invadere la Grecia. Quella delle Termopili è una battaglia che è passata alla storia, tra le altre ragioni, anche per l'enorme disparità che c'era tra i due eserciti. Quello persiano era mastodontico, numerosissimo, composto da decine di migliaia di soldati, quello greco invece da poche migliaia di uomini, provenienti da diverse città. Tra questi, in prima linea, i 300 soldati spartani guidati da Leonida. Noi raccontiamo questa storia dal punto di vista di Aristodemo, l'unico soldato spartano sopravvissuto alla battaglia. Aristodemo sarà interpretato da Stefano Panzeri, che attraverso il linguaggio della poesia contemporanea, dello spoken word e del teatro di narrazione, racconterà i suoi tre giorni di battaglia e il suo tutt'altro che semplice ritorno a casa. In scena con lui ci sarà il polistrumentista Michele Piccione, che eseguirà dal vivo la colonna sonora originale e da lui stesso composta della nostra storia. Vi aspettiamo al Tindari Festival, al teatro di Paglia, l'11 luglio alle 21 con Quando venne buio racconto dalle Termopili, scritto e diretto da me, prodotto da Vimas Teatro, con in scena Stefano Panzeri e Michele Piccione. Venite numerosi, numerosissimi, manco foste l'esercito di di Sers. Ciao.